Un giovane di 23 anni, Mosain Shekari, è stato assassinato in Iran. Gli iraniani dicono no, è stata eseguita una sentenza di condanna a morte mediante impiccagiore. Non c'è sentenza senza giustizia e non c'è giustizia in Iran, quindi è stato assassinato a sangue freddo. A lui era stata rivolta l'accusa di avere partecipato a delle manifestazioni in piazza di proteste, quelle che sono partite dopo la morte in carcere per la violenza subita di una ragazza, a sua volta accusata dai guardiani della morale, del fatto che dal suo velo sfuggisse una ciocca di capelli. L'accusa rivolta a questo giovane è stata quella di offesa a Dio. Allora, credo siano opportune due considerazioni. La prima, chiunque abbia fede deve scandalizzarsi per questo genere di sentenze, non solo per la morte, per la condanna a morte, che è in realtà un assassinio, ma per l'idea stessa dell'offesa a Dio. Quel Dio è sempre lo stesso. È il Dio della Torah, il Dio dell'Antico Testamento, della Bibbia, poi del Vangeli e quindi del Corano. C'è una continuità, anche dal punto di vista storico, di queste fedi. Una si riallaccia all'altra, nel Corano è più volte citato sia la figura evangelica, come per appunto Gesù, sia il racconto biblico. E chiunque creda in quel Dio non può non sentirsi direttamente offeso dall'idea che qualcuno possa essere ucciso perché è accusato di aver offeso Dio. Ove mai una questione di questo tipo si ponga, non è certo l'eliminazione fisica, l'assassinio a poter essere una risposta. La seconda considerazione è che c'è una lunga discussione, dall'ora accademica, sul fatto che la storia abbia o non abbia una sua finalità, cioè un suo corso, quello che chiamo l'evoluzione della storia, che quindi punti sempre in una determinata direzione e non abbia dei rinculi nel suo corso. È una discussione un po' accademica. In realtà, ove mai la storia abbia un fine, non lo conosciamo, quindi non è dato ai contemporanei. Tra l'altro noi contemporanei siamo gli antenati di quelli che vengono dopo, la storia continuerà con quelli dopo, non è che si esaurisce. Ma una cosa la sappiamo, la sappiamo perché conosciamo la storia, amiamo la storia e perché conosciamo gli esseri umani. Si possono prendere delle sbandate, si può rimanere invasati per un certo periodo. Può anche capitare che una collettività, in una determinata stagione della sua storia accetti di essere dominata, accetti di vivere in una dittatura. Ma sappiamo per certo che l'aspirazione alla libertà, e la libertà è sempre, solo una libertà individuale, l'aspirazione alla libertà è un'aspirazione universale, che non ha confini, che non ha differenze di fede o di etnia, e che quella ricerca della libertà, quella sì, quella attraversa tutta la storia, tutta la storia che conosciamo del passato e tutta la storia che deve essere ancora costruita. E che nessuna persona, nessun essere, può considerarsi libero, noi oggi viviamo, a dispetto del nostro continuo lamentarsi, viviamo nella stagione più libera e nell'area più libera del mondo. Cioè non solo oggi siamo quelli che vivono nell'area più libera del mondo, ma nella nostra area non si è mai stati tanto liberi come adesso. E una delle libertà è anche quella di lamentarsi e di chiedere sempre di più, ma nessuno di noi può considerarsi libero fino in fondo fin quando qualcun altro non ha a disposizione quella libertà. E se è vero che noi occidentali abbiamo una tendenza a considerarci colpevoli di tutto e di tutti, ci consideriamo colpevoli di quello che abbiamo fatto e ci consideriamo colpevoli di quelli che non riusciamo a fare, ci sentiamo in qualche modo colpevoli del fatto che un ragazzo di 23 anni venga impiccato e che facciamo noi, come reagiamo, ma non abbiamo gli strumenti per poter determinare questo ovunque. Quindi è sbagliato sentirsi colpevoli di tutti, ma si sarebbe veramente e profondamente colpevoli se ci si dimenticasse che la libertà appartiene all'essere umano in quanto tale, nel momento in cui nasce, e ciascuno ha diritto di battersi fino in fondo per poterne disporre.